No, no, perché per i veri dove sono? E' capito! Ma le fai di massacchia? No, no, è l'introstatico. Tu lo massacchi, no? Prendi bene. Prendi che si... Si colmò. Dovresti andare bene con pescino. Prendi più leggeri per la cervella. Ma stanno pagliela vedere perché mettiamo la tua macchina. Alla prossima.